Mamma mia quanto mi piace questa cazzola, bellissima! Andre a proposito, ho comprato le uova per Pasqua. Cioccolata all'alto fondente? Ma di gallina Andre, ma ti pare? E poi al massimo avrei preso un minimo 75% di cacao, un extra fondente. Lo sapevo io, avrei dovuto sposare una pasticcera, non una biologa nutrizionista. Ma dai che mi amo uguale, vero? Ragazzi, tantissimi auguri di Buona Pasqua a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. Va bene, in questi giorni di festa vi concedo qualche stravizio, però non ci prendete l'abitudine, mi raccomando. Lo dice la nutrizionista, eh? Quindi approfittatele. Augurissimi a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. A proposito, dove mi porterai in viaggio? Ho già qualche idea, dai però adesso facciamoci una cantata. Bene, auguri Buona Pasqua! Auguri! 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 Grazie a tutti.